La cooperativa sociale con Cresco promuove la creatività artigianale di ragazzi disabili. Vieni presso il nostro store Punto a Capo. Troverai dei regalo per ogni occasione. Personalizza insieme a noi i tuoi gadget e accessori di ogni genere. Ci trovi a Sassuolo all'interno del direzionale Cristallo Viale 20 Settembre 47. Noi ci mettiamo il cuore. Aiutaci a crescere.